il forum dei brutti trasmette le verità in questo video di oggi voglio far sapere a tutte le persone che mi stanno ascoltando che secondo me secondo leandro il forum dei brutti è un luogo in cui vengono trasmesse delle verità incontrovertibili azzardo a dire dogmi le verità incontrovertibili infatti ridotte ad un'unica parola secondo me possono essere chiamati dogmi perché perché è un forum che analizza in concreto la realtà dei fatti senza fare inutili finzioni senza nascondere il parere e quelle che sono le reali qualità estetiche di un essere umano e che va a rendere nitida una verità che di fatto non vuole essere vista dai più quale quella che oggi come oggi la bellezza è il canone principe è il cardine su cui si basa il tutto e chi non è bello viene escluso dalla società contemporanea questo perché perché purtroppo la società cresce si evolve e va a maturare grazie a programmi come per esempio temptation island uomini e donne il grande fratello che vanno a propinare una idea che l'estetica sia tutto ma al tempo stesso non ci sono solo i programmi ci sono anche i canoni che vengono seguiti dalla moda bisogna essere in un modo bisogna essere solo in quel modo lì non possiamo essere cicciotti formosi formosi no bisogna crescere con il culto della bellezza estetica data dal corpo muscoloso bisogna essere belli grossi belli corpulenti bisogna andare in giro con lo spacco davanti per far vedere il bel pettorale altrimenti niente va bene ecco io dico a questo forum cari ragazzi avete pienamente ragione io chiedo anche a questo forum di condividere i miei video perché i miei video vanno effettivamente in concreto e non in astratto a raccontare la realtà dei fatti senza palesare finzioni senza nascondersi in inutili finzioni che non servono a niente e che fanno perdere solo un sacco di tempo ecco io schiaffo la mia opinione come faccio ogni giorno nei miei video alla fruibile visione di chiunque questo significa tradotto in soldoni che tutte le persone che mi vedono hanno schiaffata la realtà la mia realtà una realtà che non pretende di essere vera al cento pericetto ma che pretende di essere vista e valutata attentamente io credo di dire cose in maniera concreta non astratta cose appurabili cose che stanno pienamente e palesemente in giro io narro una verità che deve essere vista analizzata e appurata ma questo è un lavoro che faccio perché ho voglia di raccontare ho voglia di espormi ho voglia di raccontare il vero non ho paura a aprirmi non ho paura a dire in faccia quel che penso non ho paura a far sapere la mia opinione anche perché non credo che ci sia niente di mare a farlo se qualcuno volesse condividere questi miei video proprio nel forum dei brutti invito a farlo anzi vi chiedo di iscrivervi innanzitutto a questo canale di youtube diffondete i miei video nel forum dei brutti fatemi questo favore mettete i miei video condivideteli e soprattutto ditemi se ho ragione oppure no concludendo e venendo quindi alla conclusione del video di oggi credo che questo forum sia un forum ideale per discutere di problematiche che devono essere viste che devono essere analizzate e che ci devono indurre a riflettere ma non riflettere in maniera spartana in maniera superficiale ma andare a riflettere cercando di analizzare certe tematiche la bellezza oggi come oggi è il trampolino di lancio di un essere umano se io sono bello ho la strada spianata se sono un cesso sono brutto no se una ragazza è bella fa carriera va avanti è una ragazza che avrà molto probabilmente un futuro se è brutta quella stessa brutta cercherà sesso perché si sente brutta perché si sente incapace di avere un uomo perché sa in cuor proprio che siccome nessuno se la prenderebbe mai si concede a chiunque perché sa che l'uomo è un maiale se non dicessi io queste cose qui su youtube nessuno ridirebbe proseguiamo ancora facciamo un salto di qualità in più e dico questo nei social network molte donne e molte ragazze si mettono la miniconna fanno la foto in miniconna perché non perché cercano l'uomo semplicemente perché vogliono far sì che arrivi il mi piace facile che arrivi il like che arrivi il commento poi dopo che si fanno la foto con la miniconna corta con la calza a rete con il tang addosso e con la miniconna ripeto si tolgono questi abiti e ritornano con la tutta da ginnastica addosso semplicemente perché perché l'hanno fatta non perché cercano sesso non perché vogliono incontri ma solo per ottenere like solo per avere una chiamiamola vanità in più solo per accrescere il loro grado di vanità questa realtà è riscontrabile da chiunque vi sfido andate nei gruppi fatevi una ricerca su facebook gambe miniconna e così così no guardate guardate cosa pubblicano le donne e se un uomo prova a contattare le donne nessuno risponde mai perché vengono subissate da milioni di messaggi nella posta privata la posta privata di queste donne è carica è oberata è completamente ricca di messaggi di uomini pronti a tutto pur di svuotare il loro pene il loro membro ecco per quanto riguarda gli uomini gli uomini su social hanno vita non facile difficile rimangono a pippare questo che significa che non riescono a trovare una donna che non riescono a trovare una ragazza riescono a trovare o incontri mercenari dove bisogna pagare la pecunia dove bisogna tirare fuori soldi oppure bisogna semplicemente aspettare ma aspettare significa pazientare pazientare significa che non si arriva a capo di questa situazione perché le donne non si sognano di contattare gli uomini sui social si fanno i cazzi loro detto in maniera volgare e diretta quindi un uomo sui social ha vita difficile non fa nulla rimane a pippare se sta in un social network a meno che non sia uno ricco o uno bello e affascinante e sexy se è come me uno normale sta a zero sta sotto zero e questa è la mia opinione personale detto questo caro forum dei brutti spero che questo video verrà condiviso da voi del forum dei brutti e soprattutto verrà condiviso anche in altri social e in altri forum anche nei forum degli install involontari celebrate da leandro smelli di roma è tutto vi aspetto vi ringrazio un saluto caro il mio numero su whatsapp 333 10 63 818